Con il passaggio del Machina Baton, il tradizionale bastone del popolo basco, la Presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi, ha assunto la Regenza della Calra, conferenza Assemblea Legislativa Regioni Europee, subentrando ad Ana Luisa Luiz, Presidente della Regione Autonoma del Mezzorra in Portogallo. La cerimonia di passaggio si è svolta oggi nella Sala Bugnoli di Palazzo Cesaroni a Perugia. La giornata è cominciata con i saluti istituzionali della Presidente della Regione Umbria Catuscia Marini e di Monsignor Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliario di Perugia, a seguire il passaggio del bastone e il convegno. Alla cerimonia di oggi hanno partecipato le Assemblee Legislative delle Regioni di Vallonia, Azzorre, Marche, Abruzzo, Trentino Alto Adige, Veneto, Campania, Lombardia, Friuli, Venezia Giulia, Puglia, Molise e Calabria. Era inoltre presente la conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative italiane coordinata da Rosetta D'Amelio.